Il 14 febbraio anche a Marina di Camerota sbarcherà il Museo Navigante, un'iniziativa promossa dall'Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, dai Musei del Mare di Genova e Cesenatico e dall'Associazione La Nave di Carta della Spezia. Il Museo Navigante è ospitato a bordo di un'imbarcazione d'epoca costruita nel 1944 a Messina e si pone l'obiettivo di far conoscere e valorizzare il mare e la marineria. Nel giorno di San Valentino dunque l'amore arriverà dal mare. La barca attraccherà al porto di Marina di Camerota e il giorno successivo, il 15 febbraio alle ore 18, un aperitivo in barca in compagnia del maestro d'ascia Aurelio Martuscelli. Il 16 febbraio invece iniziano le visite guidate riservate a tutti, turisti e cittadini. Il giorno successivo toccherà ai ragazzi dai 6 ai 12 anni visitare la Goletta e partecipare ai laboratori didattici su nodi, nomenclatura nautica e biologia marina. Con l'arrivo dell'imbarcazione verranno installati dei pannelli illustrativi all'interno dell'ufficio dell'area marina protetta sotto al porticato del porto turistico di Camerota. Il viaggio del Museo Navigante si concluderà a fine marzo 2018 in Francia al Festival del Mare. Il viaggio del Museo Navigante